Stark Italy è presente sul territorio nazionale da oltre 30 anni e partecipare al congresso nazionale della FIA è un must. È arrivato in congresso la sua diciannovesima edizione e il titolo, che è il futuro, è qui per noi e pan per i nostri denti. Siamo leader nel settore della ricerca audiologica e acustica da oltre 50 anni. Abbiamo più di 5.000 dipendenti, lavoriamo in oltre 24 paesi come filiali dirette e abbiamo più di 500 distributori autorizzati in tutto il mondo. Oltre all'attività di business e di marketing, assolutamente ricerca e sviluppo che è il nostro fiore all'occhiello, la società sostiene con orgoglio la Stark Hearing Foundation, che lavora stenuamente da decenni per offrire il dono dell'udito a persone bisognose in tutto il mondo. Questo congresso avviene esattamente una settimana dopo l'EUA, che è il congresso internazionale in Germania, e per Stark è stata l'occasione per fare un'anticipazione del nostro lancio eccezionale del prodotto, che non è semplicemente un prodotto, Livio AI. Livio AI verrà lanciato in Europa nella primavera 2019, anche in Italia avrà un momento molto importante di lancio, e sarà una vera rivoluzione. Livio è molto di più di un dispositivo acustico. È un vero aiuto per vivere meglio. Oltre a una qualità del suono superiore, per quanto riguarda il dispositivo acustico, perché da lì si parte, no? No, quindi il nostro core business ovviamente fa sentire meglio. È un vero aiuto per vivere meglio. Oltre alla qualità quindi del suono, monitora la salute cerebrale e del corpo del paziente. Ormai è comprovato che il trattamento dell'epoacusia può migliorare e limitare il rischio di alcune patologie gravi che possono affliggere portatori di protesi acustiche. Quindi, oltre a monitorare, quindi a essere un grandissimo osilio, monitorizza anche l'attività fisica, che può dare grandi benefici ai pazienti, incoraggiando a comportamenti di benessere generale. È il primo apparecchio acustico al mondo con sensori integrati e intelligenza artificiale per monitorare la salute del cervello e del corpo in generale. Quindi, veramente una rivoluzione. In questo congresso abbiamo anche sottolineato la nostra piattaforma attuale, che è Muse IQ, la nostra gamma attualmente distribuita, che ha aggiunto un prodotto molto importante che è ricaricabile, che è al momento uno dei migliori sul mercato. È quindi un momento molto importante per la Starche Italy, colmo di novità tecnologiche, questa è veramente rivoluzionaria, ma anche organizzative, perché noi ci siamo trasferiti nella nuova sede all'Innovation Campus, che è una sede iper tecnologica meravigliosa, che sta rendendo il 2018 un anno veramente sensazionale.